ciao a tutti ragazzi io sono manchi ed eccoci qui con un una nuova serie forse non lo so ragazzi ci sto provando mi avete chiesto tutti di fare una serie su the sims 3 allora io ci avevo provato e volevo preparare una serie diciamo per quanto riguarda l'università però ho avuto problemi poi con quel salvataggio perché praticamente non crashava completamente il gioco anche prima di far partire il salvataggio quindi niente quella non l'ho potuta fare mi dispiace perché adoravo il personaggio principale però vabbè adesso ci sto riprovando e non lo so vediamo come andrà se si bloccherà tutto di nuovo niente non non ci sarà più questa serie però intanto noi ci proviamo peraltro non aspettatevi episodi regolari nel senso io ora sto postando questo episodio ma il prossimo potrò postarlo o domani o la prossima settimana o tra due settimane dipende quando quando riesco a registrare the sims 3 quando mi va e quando il gioco me lo consente ecco perché sto avendo abbastanza problemi con the sims 3 ma credo che tutti abbiano problemi con the sims 3 praticamente comunque direi di presentarvi questo personaggio qui che non riesco a centrare comunque questo personaggio si chiama nora perrington questa è la casa in cui vi aspettate che ve la faccio vedere tutta allora ecco questa è la casa in cui vive è molto grande perché praticamente tecnicamente lei vive con i genitori però in questo momento non ci sono perché i genitori io me li sono immaginata che viaggiano molto spesso per lavoro e non sono mai a casa quindi lei praticamente si trova sempre sola a vivere in questa casa enorme infatti questa casa ha tre camere se non sbaglio questa poi la camera di lei che è questa qui e la camera dei genitori che è questa qua e niente adoro questa casa l'ho scaricata dall'exchange pratica se non sbaglio dall'ex o dall'exchange o comunque l'ho vista su youtube comunque me ne sono innamorata perché è bellissima ora io non so se questi forni funzionano penso di sì però non so vedremo vedremo comunque sì in pratica diciamo un pochino la storia è questa qui che lei è molto sola praticamente perché ripeto i genitori non ci sono mai e quindi lei si ritrova sempre in questa casa enorme da sola infatti adesso qui mi ha spuntato è come se fosse invisibile il tuo sim ha bisogno di conversazioni stimolanti ogni giorno per tenere lontana la depressione perché praticamente me le sono immaginate lei molto estroversa solo che non avendo nessuno qui a casa lei non riesce cioè si sente invisibile praticamente per via anche dei genitori perché si sente proprio ignorata dai genitori allora i suoi tratti sono socievole appropriata interprete nata fortunata ed equestre praticamente lei sogna di diventare un'attrice stellare la famiglia io me le sono immaginata abbastanza benestante però diciamo niente di super eccezionale di qua hanno una bellissima casa c'hanno pure qua la piscina c'hanno poi questa zona che il garage però ci sono anche tipo degli attrezzi poi hanno non c'è pensavo ci fosse la lavatrice ma credo sia all'interno qui non so dove ah ok la lavatrice è qua e niente quindi non ho diciamo una trama precisa per la storia nel senso sì ho fatto questa diciamo storia base però di lì non onestamente non so che cosa succederà cosa voglio fare quindi andremo un po a sentimento diciamo allora intanto la stavo facendo mangiare vorrei adesso andare magari in giro perché lei ripeto è molto socievole si sente immisibile ha bisogno di socializzare con qualcuno perciò non so andremo da qualche parte voglio anche farle avere il lavoro e appunto intraprendere la carriera di attrice c'è il festival estivo però piove sta piovendo ripulisci questo ecco la socialità è bassissima allora vediamo un po dove possiamo andare comunque ragazzi non vi aspettate una grafica eccezionale perché per far sì che il gioco vada abbastanza bene cerco io di abbassarlo un pochettino allora dove possiamo andare un luogo direi al chiuso perché piove allora questo è il karaoke allora sono le 8 di mattina quindi non è che abbia molta scelta vendi e scambia questo praticamente il mondo dei hidden springs che ancora io devo scoprire perché l'ho comprato recentemente quindi ancora non lo conosco qui c'è la piscina potremmo andare in palestra il centro estetico salone di tatuaggi mini magazzino questo è il cimitero zona parola voglio vedere questa zona wow c'è qui per un appuntamento romantico bellissimo semmai lei troverà qualcuno assolutamente vediamo qua che c'è taverna elisir dunque giardini nascosti museo un'altra taverna no direi di andare o ma qua ci sono ancora cose no direi di andare in palestra dai un bel un bel esercizio mattutino quindi visita forma fisica integrale ma lei c'ha la macchina qua in casa perché altrimenti la compra allora a sì ok la macchina c'è quindi perfetto benissimo a lei è una giovane adulta comunque quindi ha peraltro aspettate voglio cambiare il il passaggio di età dei sim e voglio metterlo un po più lungo 45 proviamo così 45 giorni in caso aumentiamo ancora di più vediamo 32 giorni vabbè per il momento va bene ma c'è posto di già ma ora iniziato la partita di già ci sono bollette ma mi scusi non sono d'accordo ok dai andiamo vediamo un po quanto ci vuole ma è abbastanza veloce vabbè dico lei ha la macchina buona quindi è molto veloce però bene dai magari poi possiamo andare anche al centro estetico per questo praticamente per questa famiglia cioè problemi di soldi non ce n'è perché dico ripeto lei viene da una famiglia benestante quindi anche se poi utilizzerò il trucco dei soldi per esempio non non ci sono problemi ragazzi allora vediamo questa palestra com'è ma è molto piccola e non c'è nessuno ma veramente saluta per socializzare vabbè dai allenati con brio vediamo magari nella speranza che entri qualcuno c'è qualcuno chi è granny su ma è verde è vero perché qua ci sono i tipo i vege sim o mio dio abbiamo un jesus vuole visitare la cina mettiamolo qui ok a questo è il suo abito sportivo non mi non entro nel crown sim perché ragazzi è lentissimo ve li faccio vedere man mano che andremo avanti con la serie allora ancora qui o c'è qualcuno chi è francesca parliamo con francesca salutiamola vediamo un po se ci calcola perché è una una celebrità io non la conosco però vediamo un po se ci degnerà della di una bella chiacchierata ecco allora magari guarda ti puoi allenare fino ad aumentare l'abilità e poi la salutiamo carino qua guardate che bei colori questo è tipo la sala di ballo è molto piccolo che non c'è nessuno ma perché che tristezza vabbè vediamo se riusciamo a fare amicizie con la celebrità vediamo hai fatto sì perfetto ok sta arrivando gente vediamo chi chi sta arrivando peter winter lee a due forse marito e moglie una fare amicizie con francesca dai la sua prima amica magari poi le darò anche un makeover allora vediamo un po che possiamo fare amichevole no buffo proviamo ad impressionarla vediamo parla del mestiere oddio io non lo so però lei che cosa fa aiuto l'occhi di l'autografo no lei vuole vuole sembrare molto rilassata molto tranquilla ecco quindi non so proviamo a parlare magari di scrittura o magari anche di pieno fo no non è andata bene cos'è o salve ma ci siamo già visti da qualche parte perché non mi rivolgi la parola quando pensi di potermi impressionare ok non le stiamo molto simpatici vabbè vediamo proviamo a parlarle di ricchezza proviamo a parlare di che ne so piano forte ha funzionato parliamo le magari di pittura poi vediamo del mestiere proviamo a parlare del mestiere musicale ma questa non è andata vediamo un po ecco direi che per questa serie possiamo provare a farle raggiungere il livello 10 della carriera di attrice e magari farla diventare una celebrità però io qua non so se mi sa che non ci stiamo riuscendo no dai sono molto noiosa ma scusami come ti permetti proviamo di nuovo a parlarle di cos'era scrittura quello le era piaciuto o questo ha funzionato la carriera musicale ok ottimo congratulazioni in ora ha impressionato la celebrità franziska vandenberg ora sono liberi di socializzare ottimo allora farsi notare in città non è affatto facile ma nora perrington ha raggiunto il primo gradino della fama e presto la gente conoscerà il suo nome grazie al suo persistente desiderio di farsi notare nora uscirà definitivamente dall'anonimato per ora comunque è solo una cacciatrice di fama congratulazioni mi sembri una persona a posto nora perrington ammetto che sei riuscita a impressionarli impressionarmi suppongo dovremmo stare insieme un po di più ma certo dai facciamo amicizia allora vediamo un po a no non voglio formare un gruppo volevo fare amichevole vediamo chiediamole della carriera perché voglio capire che cosa fa proviamo a fare dell'almamante ma no non chiedere l'autografo dobbiamo diventare sue amiche dobbiamo essere cool è una giornalista ok interessante potrebbe tornarci utile queste cose chiacchiera poi facciamo che ne so spettegola scuola di pace e amore io posso fare impara con noi salta il giornalismo dai poi facciamo impara conoscere poi vediamo un po parla delicato raccontiamole una storia dai così finalmente stiamo aumentando anche la socialità io a lei il cover lo darò mentre non registro sapevi che pierce sciocci e schifosamente benestante non l'avrei mai detto ok buona sapersi chi è questo greg aspetta voglio capire chi è greg qui non c'è nessun greg forse giù chi è questo ma salve allora tu hai del potenziale mio caro amico non ti dobbiamo lasciare sfuggire allora intanto continuo a parlare con lei però io voglio conoscere anche quel tizio monteggia con un'arguzia proviamo questa cosa speciale vediamo appropriata accusa di improprietà complimentati per la proprietà discuti delle questioni di etichetta ma proviamo questo poi equestre vabbè non non è importante esaltiamo anche l'esercizio fisico e poi veniamo un po qui a parlare con il nostro caro amico non te ne andare sai ok sta salendo ottimo ottimo magari con lei guarda formiamo un gruppo così magari possiamo anche andare da qualche altra parte poi voglio fare una presentazione con lui che peraltro lui è quello di cui loro hanno spettegolato quindi sappiamo che è benestante a lei è virtuosa ok responsabile delle notizie anonime ma quindi abbiamo un coso abbiamo una stella ottimo ok perfetto dai mi piace che stanno facendo amicizia lei ha massimizzato qua la socialità o se no guardano le diciamo la salutiamo no di arrivederci salutiamola e facciamo una presentazione con lui giusto per conoscerlo un attimo e vediamo un po cosa succede speriamo non sia sposato ma tipo io lo posso chiedere vabbè prima si devono presentare ok presenta ama guarda ha fatto l'inchino ma che cosa bella si gira ti ho fatto l'inchino e ti giri posso chiederti se sei single così giusto per siamo un po sfacciati anche lui ha fatto la foto alla celebrità dai su vediamo un po che mi sa però lo che lui è un adulto allora vediamo sei sposato no buono a sapersi amico buono a sapersi facciamo motteggia con un arguzia facciamo possiamo parlare di dove bene volevo parlare di dell'esercizio fisico ma mi sa che non si può fare parliamo un attimo con lui poi andiamo in bagno ora qual è il bagno che devo utilizzare questo quindi vai qui abbiamo fatto amicizia ottimo ottimo bene dai sono contenta e poi possiamo fare jogging fino a casa perché lei voleva fare jogging questo lo tolgo perché non ho l'idea di chi sia allora ok oppure potremmo andare a mangiare qualcosa con lei magari ma si dai facciamo un gruppo diciamo sai stavo andando a pranzare fuori chi va di venire con me vediamo se se vuole venire o le vuole parlare a piers dai molto bene molto e vuole stringere amicizia vabbè allora jogging lo tolgo ok ti unisce a noi mi sa di sì ok ottimo fantastico sono felice di stare un po insieme a te dove vai quando vuoi divertirti allora andiamo a mangiare fuori oppure potremmo farci un massaggio insieme si può fare vediamo non sono fatti un massaggio no peccato poteva essere divertente grande fuga ritiro benefico appuntamento rilassante salone niente peccato che non si può fare in due questa cosa allora no ce ne andiamo vediamo qui c'è il piccolo bistro qui c'è una frigitoria ma non credo che portarla alla frigitoria sia qui c'è una caffetteria no andrei nel bistro si dai mangiamo all'esterno in gruppo offriamo noi così ci facciamo vedere tutto ruota intorno a me il tuo sim al centro dell'attenzione proprio come le piace bene dai poi soddisfazione poi lei è fortunata che è sta cosa guardare la partita allo stadio possiamo andare allo stadio guarda tolgo questo e metto questo così in caso potremmo andare alla partita vediamo dov'è lo stadio l'avevo visto però non mi ricordo dove si trova a qui vediamo a ma non posso fra due giorni ma allora togliti cioè fra due giorni allora poi magari dopo ho mangiato ce ne andiamo a casa poi vediamo come questo posto ma questo è bellissimo allora dopo che andiamo a casa quindi terminiamo qui il gruppo o se noi potremmo anche vediamo prossimo spettacolo alle 17 possiamo guardare anche un film con lei dai così passiamo proprio una bella una bella giornata poi andiamo a casa facciamo una doccia e poi le faccio cercare la carriera vediamo un po come andrà ok dovreste mangiare fuori ok lei dove come si chiama francisca chi è questo greg ama lo conosce non ho idea di chi sia c'è proprio zero ok lei si è preso una torta di zucca e tu gli spaghetti della casa sì il suo piatto preferito ragazzi sono gli spaghetti credo o forse credo di sì vediamo aspetta sì il suo piatto preferito sono gli spaghetti poi adora la musica indie e le piace il colore arancione vediamo il tiro delle celebrità vabbè diciamo ancora conosciamo soltanto lei però vabbè ci stiamo avviando verso la direzione giusta vorrei fare una foto guardate che carina ok perfetto benissimo questo che è odore di auto nuova si e l'hanno comprata praticamente lei è anche molto viziata perché i genitori essendo che sono sempre distanti per diciamo tra virgolette dimostrare il loro affetto le compravano sempre le comprano anzi sempre un sacco di cose allora appena finite venite qua e che ok ancora non sono non è orario quindi magari parliamo un po con lei vediamo elogia le tue doti atletiche poi facciamo chiacchiera e poi andiamo a vederci il film 56 socializzare con un sopranaturale no ti prego ok facciamo recensisci il film in gruppo facciamo amore e tartufi ma sì ok andiamo godiamoci un bel film e poi andiamo a casa dai una bella giornata non me l'aspettavo onestamente no sì ma lei sta avvenendo sì sta avvenendo ok perfetto sono ancora in tuta tutte e due però non importa ok vediamo come sarà questo film oggi abbiamo pagato tutto noi praticamente ma questo che cos'è una casa ma che bella è bellissima questa casa certo non si carica però ecco ma sembra tipo una scuola è bellissima no non volevo a casa dei libri ragazzi dopo questa io posso andare a ritirarmi la casa dei libri che mi sembrava troppo troppo sofisticata per essere una casa perché dico la bandiera non aveva senso in una casa allora aumentiamo un po la velocità o sennò prima di andare a casa andiamo direttamente a cercare la carriera sì perché mi conviene secondo me sciogliamo poi il gruppo con lei non so se guardando un film loro aumentino anche l'amicizia no vabbè non importa vediamo un po che ne pensano di questo film sta finendo ci siamo ti è piaciuto visto uno splendido film straniero aspetta che voglio leggere certi film hanno un equilibrio perfetto tra dialoghi grandiosi personaggi coinvolgenti e trame cinema no trame mozzafiato non reinestaci cinematografica bene sono contenta ma ma la tizia dov'è ma vieni qua un attimo anche voglio vedere dove che devo sciogliere lo posso sciogliere da qua il gruppo però la volevo salutare eccola o se ne sta andando che è questo guadagna una stella di celebrità va bene questo che cos'è incontrare una celebrità un'altra ti posso abbracciare per salutarti no mi sa di no vabbè facciamo tipo un 5 ed è il nostro saluto ok così sciolgo il gruppo e vado a trovarmi il lavoro perfetto ottimo dai sciogliamo il gruppo spero sia sciolto sì tu sei bene come ci si diverte chiamami quando vuoi quando vuoi per divertente combinare qualcosa ottimo ryan enderson allora per pochi individui hanno partecipato a un'uscita gratificante delizioso stimolante come quella appena conclusa va bene allora per la carriera cinematografica ci dovrebbe essere tipo il set ora io non lo so se qua c'è mi sa di no o no o no come facciamo che è questa cosa a il festival ok dobbiamo inserire un set cinematografico sì perché io non lo vedo a meno che io da computer non possa allora sì andiamo a casa da lì alla ribalta si adorano essere alla ribalta sotto la tempesta di flash fotografici dei paparazzi per l'avvistamento da parte del paparazzo già la riconoscono perché l'hanno vista con quella tizia si è messa qua così allora dai smetti di startene al cellulare per favore dobbiamo andare a casa vedere se dal computer posso farti avere il lavoro di attrice altrimenti devo mettere un set cinematografico ok è velocissima questa macchina cioè fantastico ok perfetto allora vediamo un attimo dove intanto il computer perché io ancora non ricordo dunque forse praticamente lei comunque ha un fratello solo che questo fratello è più grande quindi ormai non vive più in questa casa è sposato già anche qualche dei figli non ricordo quanti però sono sicura che li ha non c'è un computer in casa ma veramente non c'è un computer ma no allora intanto vieni qui per favore e compro un computer non ho idea di dove metterlo ma penso di sopra vediamo se è qua e magari non lo vedo questo che cos'è lo stereo no facciamo una cosa però voglio accendere tutte le luci no voglio accendere ecco tutte le luci perché altrimenti non vedo niente allora io lo metterei qui il computer tipo magari lo posso mettere qua spostando questa pianta dai facciamo questa cosa molto velocemente perché a me va un po lento ogni volta in questa modalità allora scrivania vediamo una scrivania o questa ci sta ok dai mettiamo questo ci sta molto bene poi un bel computer prendiamolo così ma dai e poi prendiamo una bella sedia no questa non mi piace no aspettiamo questo perfetto per il momento metto così a la pianta va bene non importa allora lavori e professioni credo di doverlo trovare qui quindi vediamo aspetta prima di andare a dormire devi trovare il lavoro e ti devi anche fare la doccia peraltro potevo metterlo anche qui in effetti no dove vai ma guarda tu se sei malvagia nora nora sei malvagia aiuto ma nora ti posso svegliati ma chi è un paparazzo oh mio dio ma non posso mandarla via o santo cielo abbiamo i paparazzi sotto casa questo è un problema su ti prego ti devo trovare questo lavoro allora dico se non lo troviamo adesso in caso va bene il prossimo episodio ok vediamo ora vediamo sia tra i lavori che tra le tra le professioni allora educazione culinaria criminale medica giornalismo no e allora si devo mettere proviamo tra le professioni perché non sono sicura vediamo un po' cantante progettista architettonico investigatrice maga no non c'è va bene allora lo troviamo nel prossimo episodio intanto le facciamo fare la doccia e poi te ne vai a dormire dormi benissimo dai per il momento non non ha dato il gioco nessun problema particolare quindi sono abbastanza contenta ma qui perché c'è una porta ma è pericolosissimo qui ah ok è tipo chiuso ma non ha senso ok questa porta non ha molto senso secondo me è tipo un ripostiglio ok bravissima hai fatto la doccia e adesso vai a dormire ok ok dai direi che possiamo fermarci qui con questo primo episodio dai volendo non è andata tanto male io spero che man mano che vadano avanti gli episodi continui ad andare in questo modo non so poi comunque Nora cominceremo a conoscerla man mano che andremo avanti appunto perché dico per il momento ve l'ho un po spiegata però man mano la storia si evolverà di più e quindi conosceremo di più il personaggio fatemi sapere che ne pensate se volete che io continui questa questa serie che la considero diciamo una miniserie ragazzi quindi niente di super eccezionale però per il momento non non ha dato problemi quindi ho alte speranze dai rispetto a quella di prima decisamente sì comunque direi che possiamo fermarci qui con questo episodio io vi mando un bacio enorme vi ricordo di mettere mi piace di commentare di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao